Pari a 1.350.000 euro, il fondo stanziato dalla Regione Calabria è destinato alle scuole di secondo grado dell'intero territorio per allestire laboratori sulla misurazione dell'inquinamento ambientale e sull'osservazione astronomica. Una misura questa possa in essere a seguito della proposta dell'assessore all'istruzione Università e Ricerca Sandra Savaglio nell'ottica del potenziamento della dotazione tecnologica e della strumentazione laboratoriale per la realizzazione di progetti educativi in materia di educazione ambientale, sostenibilità e osservazione astronomica. L'impegno finanziario è a valere sulle risorse del POR Calabria 2014-2020. La Giunta ha dato così indirizzo al Dipartimento Istruzione e Cultura affinché siano attivate le procedure amministrative. Tramite questa delibera, commenta Savaglio, le scuole entrano concretamente nella filiera degli interventi a difesa dell'ambiente. È simbolico chiudere l'anno con un'iniziativa che punta a riaprire e riattivare i laboratori nelle scuole superiori perché l'auspicio è che i nostri ragazzi e ragazze con il nuovo anno ritornino tra i banchi. È inoltre per me motivo di felicità poter potenziare la scienza a favore della sostenibilità all'interno delle scuole calabresi. Una felicità la sua che sa di condividere chi osa la Savaglio anche con l'amico e collega Sergio De Caprio, assessore all'ambiente appunto della Regione Calabria.